Raga, in questo momento mi trovo nel campo centrale, uno dei campi in cui si svolgerà il Tommy Marino Camp dal 30 luglio al 5 agosto a Cesenatico. Adesso facciamo un giro. Raga, adesso è inverno, ma d'estate, secondo me, sarà una bomba. E ovviamente qui siamo in spiaggia, cioè laggiù c'è il mare. Cioè non è che siamo in spiaggia, siamo nel mare. Oggi sono venuto qua a Cesenatico a salutare i ragazzi che c'è un torneo giovanile e mi hanno detto che ci sono già iscritte una maria di persone. Mi hanno detto che il numero sono parecchie di più di quelle che pensavo, sinceramente, perché è dicembre e il camp è fra 7 mesi. Nella mia bio di Instagram e su YouTube trovate anche il video, trovate tutti i link necessari per iscrivervi. Raga, mi sono preparato un sacco di robe fighe dal punto di vista basket, ma non solo, quindi iscrivetevi. Tommy Marino Camp, let's go. Ciao!